Ciao caro leone, andiamo a vedere anche per te un messaggio dei miei adorati tarocchi. Non faccio domande, non chiedo loro niente, questo video non vuole essere un oroscopo, ma semplicemente diciamo una stessa in generale. Mi guardi qualcosa in generale per me? Ecco, questo è non do tempi, quindi questo video avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai. Poi per chi le cose si avvereranno prima, per chi si avvereranno dopo. Ecco, va bene? Andiamo a vedere cosa hanno da dire per il segno zodiacale del leone. Segno del leone. Ah, però. Ok, ebbè, ebbè sì, era abbastanza chiaro. Allora, ok, andiamo a vedere. Segno zodiacale del leone. Allora, leone, qui c'è una novità in arrivo, cioè questo mi pare, mi pare anche abbastanza chiaro. Segno zodiacale, leone. Ora, a dirti la verità, io vi posso vedere una novità esattamente. Insomma, una novità, eccola là, una novità lavorativa e non. Nel senso che qui c'è senz'altro una novità sul lavoro. Quindi, leone, se, ovviamente se tu cerchi lavoro, bambine, qui lo dovete tradurre alla vostra vita. È ovvio, non c'è un leone uguale all'altro. Ovvio, no? Quindi, capite voi, io ti leggo il messaggio allo stato furo, poi state a capire dove ti stanno andando a parare queste carte, va bene? Allora, qui parla sicuramente di una novità e qui non ci sono dubbi. Qui c'è una novità anche abbastanza inaspettata, repentina, un qualcosa che arriva proprio stutum. Ok, quindi una chiamata, una chiamata per quanto riguarda un lavoro. Quindi un'offerta di lavoro, una proposta di lavoro, una proposta di un certo tipo di contratto. Qui si parte per un qualcosa di nuovo, va bene? Quindi qui ci potrebbe essere senz'altro una, sicuramente uno sblocco di una situazione un pochino nebulosa. Ok, un invito ad un, come si chiama, quando ti devi incontrare per parlare di lavoro. Oh, signore benedetto, no, una riunione. Sì, una riunione, ma quindi un colloquio, va bene? Un colloquio per lavoro. Quindi qui ce lo vedo proprio, ci sta benissimo. Una chiamata per una proposta di lavoro, quindi un incontro per parlare. Quindi qui ci sta un nuovo contratto lavorativo. Se già lavori, si può trattare semplicemente di una, di una novità sul lavoro che tu hai già. Quindi un qualcosa di nuovo che ti viene proposto, magari tu l'hai chiesto te, per l'amor di Dio. Capisci? Cioè qui c'è proprio il dare e l'avere. Quindi magari hai chiesto te qualcosa che ti viene confermato, riconosciuto. O magari semplicemente tu non hai chiesto nulla, ma ti viene dato, ti viene offerto. Quindi novità sul lavoro assolutamente. Questo è quindi un invito per un colloquio lavorativo per intraprendere, iniziare proprio una nuova carriera. Questo è un po' massimo. In special modo, in special modo, non solo, ho detto in modo particolare, più forte, più accentuato. Se questo lavoro, o comunque se questo incontro, questo colloquio lavorativo, presuppone anche uno spostamento. Quindi se tu ti devi spostare, tu devi andare da qualche parte. Ok? Quindi senz'altro, qui c'è un contratto, un qualche cosa, quindi uno scambio di opinioni, una proposta lavorativa. Bellissimo. Potrebbe semplicemente trattarsi anche di un corso, di uno studio che tu devi fare, sempre per i motivi che ti ho detto. Va bene? Poi ci può essere qualche leone che invece che vedersi realizzare questo discorso lavorativo, il discorso andrà più sul lato passionale, amoroso del termine. Cioè, qui c'è una nuova conoscenza, o comunque una persona che magari conosciamo da poco, qui c'è una chiamata, un messaggio, una telefonata, insomma una comunicazione che ti arriva così, sul due piedi. Quindi i casi sono due. O tu conosci proprio qualcuno e tu inizi una nuova avventura con questa persona, o magari ecco un personaggio che tu conosci da poco, ok? Che si fa vivo o viva, personaggio si fa vivo, uomo o donna che sia, quando meno tu te l'aspetti per proporti un incontro, un vedersi, un fare un qualcosa insieme. Cioè, qui un pochino tutte le carte mi parlano di una nuova avventura. Ecco, qui ci si imbarca così, leone, in una nuova avventura. In tutti i sensi, vedi te, di che ti parlano le carte, se hai 98 anni, magari di una nuova avventura, cioè una nuova amicizia, tu cambi luogo, tu vai già a carte, insomma fa pure, e fa per dire, cioè anche voi aiutatemi a tradurre le carte. Un occhio dice, ma io non lo voglio l'amore. Beh, se non tu vuoi l'amore farei da qualche altra cosa, non c'è capito che ti voglio dire. Un nuovo amore può essere anche un nuovo affetto, un'amicizia particolare, un nipote che ti dimostra il suo affetto, il suo amore, ti fa fa qualcosa di nuovo, tu vai a giardini. Insomma, qui bisogna essere elastici, è ovvio, io sto parlando a una platea di migliaia di persone, è ovvio che non sia per tutto uguale. Ovvio, no? Ecco, le carte parlano di una nuova avventura, di un qualcosa che inizia anche in modo repentino, veloce, pum pum pum, c'è una comunicazione, una conversazione, una riunione, un parlare con qualcuno, uno scambio di parole con qualcuno. E da lì tutto comincia, vedi te, di osa ti parlano, ok? Andiamo a vedere anche gli oracoli volume 1, già che siamo qui, tiro una carta. Capito, leone? Quindi qui c'è una situazione che si sblocca anche abbastanza improvvisamente. Guarda l'amicizia, vedi? Guarda, lo stavo dicendo ora. Ci può essere chi veramente si figlia i cani, per esempio, leone, comunque, ok? Quindi una novità anche, anche proprio letteralmente una nuova amicizia, ok? Una nuova amicizia. Si parte con qualcosa di nuovo. O comunque, anche se non è nuovo, qui si fa un qualcosa insieme a qualcuno. Comunque, io qui vedo anche, per quei leoncini o per quelle leoncine adorate, io adoro il segno del leone, va bene, che vuci avete l'amante, va bene, l'amante nel senso una persona con cui vi uscite, con cui vi sentite per vedervi, con cui c'è molta passione, con cui ci si morde proprio, e va bene, dal desiderio qui si fa vivo, a maggior ragione si era sparito per un po', da un po', ok? Qui ci può essere un personaggio che, insomma, si era fatto sentire, va bene? Quindi magari te tu gli ha fatto anche un po', insomma, tu l'hai un po' brontolato, e qui vedo dovrebbe riapparire, quindi fammi sapere, leone, fammi sapere, va bene? Io ti aspetto qui, eh, leone, al prossimo video, va bene? Ciao!